Musica Attenzione Su questo canale si utilizza un linguaggio esplicito e comune Si propone un tipo di comicità irreverente in cui spesso vengono usate parolacce e volgarità in genere Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti vi consiglio di non visionarne i contenuti Ma che cazzo si dovrò dire more A sbriga fiori Qua è il masseo Bentornati con l'appuntamento settimanale dei premi FUT Champions Sei fan di FIFA? Abbiamo modificato l'orario per l'assegnazione dei premi settimane della FUT Champions Weekend League Ora i premi verranno assegnati alle 8 QTC di ogni giovedì quindi alle 9 di mattina Come al solito prima di cominciare Mi trovate sempre Ma dove cosa c'è quella FEPA? Ogni volta Qui ogni pomeriggio Streamare, robe, far cose E soprattutto se siete miei cari fioi detentori di Amazon Prime Potrete collegarlo al vostro account Twitch e fare una SAP gratis al canale Niente più pubblicità, emozze e tante altre cosette interessanti Quindi se avete il Prime venite dal masseo riscattarlo Asbrega Mori Solito In descrizione trovate tutti i link social 0775 I miei Instagram Twitch Non so cosa stia succedendo sul mio canale Ma sta andando tutto troppo bene Tutto troppo liscio Troppi nuovi Iscricchi Non so gestire la rabbia E quindi Andiamo avanti Partiamo con Asbrega Fioi Account di Andreas E Sanguinetti Champions Weekend League Fuori classe 3 Abbiamo i nostri bei 70.000 credit 100k Team of the week Che questa settimana Penso di non aprire a nessuno Perché C'è un Team of the week del cazzo E I pick I pick Che famo? Cambiamo il giro? Partiamo da quello centrale Richarlison Chester Valeri Penso di prendere Richarlison 5 stelle Piede debole 4 stelle abilità All one to watch Però All one to watch Esterno sinistro Io prendo Richarlison Pioi Per Così Per Per divertimento Procediamo con quello di sinistra Che brutti pic Pioi Che merda è Joan Jordan Non trovo un cazzo Vabbè ragazzi Che schifo Che schifo Dio Che Bommaccatura Prendo Chillwell Ma ha dato Richarlison 3 volte Mi ha dato Ma che pick Vergognosi Tutti i panchinari Ma neanche un titolare Neanche un titolare Mi hai dato Questo me lo tempo Per la prossima settimana Pacchetto Da 100k Adesso Non mi hai dato un cazzo Non vuoi darmi un cazzo Anche qui Eh infatti Non è neanche un walkout A bandierine Spagna CC 83 Da un pacco Da 100k E musacchio Fammi chiedere Questo pacco Costa Se lo compro 20 20 20 Euro Gesbaolo Manu Trigueiros Arnautovic Biska Stones Illicic Musacchio 100.000 crediti Di pacco Il problema Sai qual è il problema Non avete competizione Per quanto riguarda I giochi di calcio Avete tutte le licenze Mie cari e-sport Quando arriverà qualcuno Che vi cagherà in testa Perché arriverà Prima o poi Qualcuno che vi cagherà in testa La La mi divertirò La mi divertirò Vedervi sprofondare Sprofondare Negli abissi Del Leame E riderò 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 Crepapelle Riderò Se lì Ti spacchi il culo Cerchi di non tentare Di stare calmo Bello dip Asbrega Fioi Fai quasi fuori classe 2 No Cioè Allora Meno fai E più ottieni Questo si evince dai miei video Passiamo all'account di Sanguinetti Fioi Vediamo un po' Sanguinetti Come cazzo sei Oh fuori classe 2 Buono Molto buono Bravo Andre 100.000 crediti Pacchetto Da 100k I pick sono sempre quelli I punti sono sempre quelli E il pacchetto Del team of the week Stasettimana Ripeto Non lo apro Perché il team of the week C'è solo Mertens E Felipe Anderson Quindi ragazzi Non vale neanche la pena Allora Il mio giro non ha funzionato Provo a lui il giro solito Sinistra Destra 100k Partiamo col primo pick Ebbè già Lui è qualcosa di più corposo Cazzo Velotti Sarebbe stato un bel super sap 91 di finalizzazione 84 potenza tiro Elevazione 84 88 precisione di testa Posizionamento di attacco 88 aggressività 84 forza 86 E' una bella carta E' il gallo Il gallo Il gallo Pick di destra Ma basta Me li devo ficcare nel culo Io sti baci Ma che cazzo baci Bacciami i coglioni Deficienti Oh Non facciamo scherzi Gisbolo Ma hai dato 3 84 il primo pick Poi merda Capite cosa voglio dire Cioè hai una possibilità Su 7000 Di trovare Quello bello Che gli altri Fanno tutti vomitare Ma vomitare Ma non dire No Diarrea Spruzzo Tu Cioè Io mi metto qui Col culo spreddato Com'è che si dice spread Spread Ai come cazzo Si dice in italiano Ho il culo divaricato Aperto Vabbè aperto Mi metto così a 90 Con il culo aperto E pitturo il muro Di obo Quello Cacata spruzzo E questi sono i pick Belotti Chilwell E Richarlison Cominciamo con Il giocatorio I walk out Fermi tutti Attenzione Francia Cdc Juventus Matuidi Beh vale ancora 50k Cero dance Mamma mia Come la master Oh io No No Oh io No Che hai spinta Sotto al letto Però Matuidi Nice pool Da un pacchetto Premium Moro premium Io farei prima I pacchetti mega E poi 100k 120k Walk out Attenzione Si apre Brasile Cdc Fernandinho Oh Abbiamo Un 100k E un 125 No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Brasile Atti Jonas Oh Almeno 125 Cioè me lo aspetto Gasball Brasile Atti Bobby Firmino Il gioiegliere Il gioiegliere Il gioiegliere Identificami il tuo gioiegliere Eccolo qua Bobby Firmino Il gioiegliere Ci vediamo Ci vediamo sull'accanto Di Andrea Stioi A praffoco No Vedere come si è classificato Il buon Andre Questa settimana Fuoriclasse 3 Beh amore Sempre 70.000 crediti 100k Il pacchetto che non aprirò E i tre pic Girerei un po' il giro A questo punto A destra Via Ma che cazzo Di merda Di No Ma le ho inno Ve l'ho detto Questo team of the week Puzza Di Piscio Bagnato Secco Presente le metro Di Parigi Puzza come le metro Di Parigi Sto team of the week Roger Joan Giordano Guzman Bono E Valeri Pic di destra È veramente Luido Pic centrale Ma che vomito Chester Tilde Romagnoli Guzman Steppen Rohingyer Mi ha appena dato Rohingyer e Guzman Dai Ma cambia sti cazzi Pic Change the pic Please Un bacino A Romagnoli No era per Romagnoli Il bacino Non per il pacco Non per il pacco Non posso avere sempre culo Giustamente Dai Che vuole Perché sennò Sarebbe illegale Prendiamo il galliere Sperando Nella buona sorte Ecco Devrai Ha So sbregare Da un 7500 Pacchetto oro Giocatori oro Via Ma sono bandiere Ed è un'informa Brasile ATT Richarlison Con uno raro Come l'altra volta Il primo Sanè Adesso sto mongoloide Pacchetto mega Si apre C'è tanto fumo Quindi per quello Si riconosce Spagna ATT Diego Costa Eh Walkout Fe Non sento il volume Italia Ciruzzo immobile Questo è un 100k Signori miei Vedete voi se giocare Ah ok Vedete voi se giocare Ok Io non ho parole Banalmente Ma ha droppato di più Un 7500 Capite che la bilancia Io non so dove cazzo Cosa Qual è il criterio Ragazzi è vomitevole Dai Ma come cazzo Eh Ogni 100k Ha fatto vomitare oggi Zero walkout Dai 100k Zero 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 Ogni volta dobbiamo finire con le urla Perché questo gioco Ci Mamma mia Ci delizia il palato Che è Ma Per il tuo discorso di merda Se lo compro vale 20 euro E tu non mi puoi dare un 84 Un 83 Un 82 Mi devi dare un 86 Più Minimo Dai Per oggi è tutto Pioi Spero che il pack opening Sia stato il vostro gradimento Io non posso sempre avere Il culo Di trovare qualcuno Vi ricordo I vari social 0775 in descrizione L'academy Che sta per ripartire Twitch Instagram Il masseo E noi ci becchiamo Alla prossima Miglior andata